La storia della letteratura, la storia dell'umanità inizia con due gialli. Il primo è un furto, rubano una mela in un giardino e l'investigatore è niente meno che Dio che deve scoprire chi ha rubato quella mela e perché. Il secondo è un omicidio e anche in questo caso l'investigatore è Dio che chiede a Caino che fine ha fatto Abele e il terzo è una storia che comincia con una grande pestilenza, la città è stata colpita da un'epidemia terribile, la gente sta morendo, i cittadini corrono dal re, corrono dal potere politico e gli dicono aiutaci, aiutaci, ci deve aiutare e il re gli risponde non vi preoccupate, ho chiesto a mio cognato, al fratello di mia moglie di andare a chiedere a Delfi dove c'è l'oracolo che cosa sta succedendo e perché siamo stati colpiti da questa disgrazia, quando arrivano le pandemie bisogna sempre trovare di chi è la colpa di quello che ci sta succedendo e quindi tranquilli cittadini ci sto pensando io, anzi troveremo il modo di uscire molto rapidamente da questa situazione. Quando torna lo suo cognato gli spiega che per far finire la pestilenza bisogna scoprire chi ha assassinato il re che c'era prima di quello attuale, chi ha assassinato laio, perché è un omicidio che è rimasto irrisolto, un cold case dell'antichità. Edipo dice senz'altro andiamo subito a cercare questo assassino che ha ucciso il re e il colpevole verrà subito immediatamente esiliato dalla città. L'esilio nell'antica Grecia era una pena veramente terribile perché i cittadini vivevano all'interno della polis, all'interno della città, essere cacciati dalla città voleva dire fare una fine molto molto triste tendenzialmente, voleva dire essere tagliato fuori da tutti i propri legami sociali. A quel punto entra in scena Tiresia, Tiresia è un indovino, è cieco ma proprio per questa sua cecità può vedere il futuro. Tra l'altro Tiresia è un personaggio affascinante perché è stato uomo ed è donna, cerca di dire a Edipo lascia perdere, non è una buona idea andare a fare il detective, andare a cercare di scoprire chi ha ucciso Laio. Edipo si arrabbia, dice no no bisogna scoprirlo, bisogna scoprirlo, bisogna scoprirlo e Tiresia gli fa una profezia terribile. A quel punto entra in scena la moglie di Edipo, ormai abbiamo detto chi è e dove siamo, siamo a Tebe, che si chiama Giocasta e che gli dice ma guarda io non ci credo agli oracoli, non ci credo a quello che dice l'oracolo di Delphi, non ti devi preoccupare perché qui c'era già stato un altro oracolo che aveva detto che Laio sarebbe stato ucciso da suo figlio e in realtà poi non è successo così. E a quel punto però il detective che c'è in Edipo comincia a ragionare, dice ma dove è stato ammazzato Laio? E Laio è stato ammazzato a un incrocio, è stata una lite di precedenza sostanzialmente. A quel punto Edipo comincia a preoccuparsi e comincia a investigare, a cercare di capire che cosa era successo in quel famoso incidente perché c'è un'altra storia che va raccontata perché Edipo è cresciuto a Corinto, era figlio del re e anche lì ci fu una profezia terribile che diceva che Edipo avrebbe ucciso suo padre e sarebbe giaciuto, avrebbe fatto l'amore, avrebbe fatto dei figli con sua madre. Ed è proprio per quello che a un certo punto Edipo aveva abbandonato la reggia di Corinto, lui era erede, sarebbe diventato re e di fronte a questa terribile profezia decide di andarsene, cercare fortuna da qualche altra parte. A quel punto Edipo riesce a far chiamare come testimone un pastore che deve raccontargli che cosa gli era successo perché a questo pastore Laio, il padre di Edipo, aveva consegnato il bambinello dicendo questo bambino quando crescerà mi ucciderà, io non voglio che mi accada questa cosa, prendilo, portalo in cima ai monti e farlo sbranare dai lupi sostanzialmente. Questa storia dei padri che uccidono i figli è alla base di tutta la mitologia greca, c'è tutta una dinastia di dei che divorano i propri figli alle origini del panteon greco. Se non che questo pastore racconta che aveva preso questo bambinello appeso per i piedi con un cordino come si fa con i capretti ed è per questo che Edipo si chiama Edipo. Nell'etimologia del nome stesso ci sono i piedi gonfi, in qualche modo era zoppo, era rimasto offeso da questo trasporto come un capretto. Che cosa succede però? Racconta a questo pastore che non ha abbandonato il bambinello nel bosco, non l'ha ucciso ma l'ha dato a un altro pastore che l'ha portato di là dal monte e di là dal monte c'era per l'appunto Corinto. E qui a questo punto tutta la storia diventa chiara. Quando va via da Corinto per la profezia chi incontra? Incontra l'aio che stava andando ad Elfi per raccogliere il parere dell'oracolo. Quindi chi ha ucciso suo padre è stato Edipo, chi è giaciuto con sua madre è stato Edipo, con Giocasta ha fatto due figli e due figlie. A quel punto tutto crolla, Giocasta si uccide, Edipo dopo aver visto quello che ha visto si acceca, decide di partire anche lui, diventa un gente come Tiresia, dice alle sue figlie, ragazze mie voi avrete una vita molto molto difficile perché siete figlie di un padre sfortunato, segnato dalla tragedia e questa vicenda, la vicenda di Edipo fa parte di un ciclo più grande, di una specie di serial che ha al centro le vicende di Tebe e della famiglia per l'appunto di Edipo. I sequel di Edipo re saranno Edipo a Colono, ovvero la fine, la morte di Edipo, ma anche i sette contro Tebe e anche e anche soprattutto Antigone che racconta che cosa succede alle figlie, alle figlie di Edipo. Che cosa ci racconta questa storia? Perché i greci erano così appassionati da una storia di questo genere? Perché è un'indagine sul senso della colpa. Che colpa ha Edipo? Che ne sapeva Edipo quando ha ucciso Laio? Mica sapeva che era suo padre, era stata una lite dove forse in parte aveva anche ragione lui, la precedenza ce l'aveva Edipo. Come faceva a sapere che Giocasta era sua madre? Quindi Edipo di suo non ha colpa, non ha scelto di uccidere suo padre e di compiere un incesto e tuttavia da un altro punto di vista resta colpevole. Su tutto questo hanno cominciato a pensare, a discutere i greci, cioè qual è la nostra responsabilità individuale. Su questa storia Freud ci ha costruito una teoria su quello che è la nostra anima, ma è anche una storia che sta dietro alla vicenda di Amleto, che a sua volta sta dietro al re Leone, che a sua volta sta dietro a infinite altre storie. Cioè questa storia raccontata nel quinto secolo avanti Cristo continua a riverberare fino ai tempi nostri.